l'altro di buffer matti, ti mangi il buffer e fai quello, ti immagini che figata? mamma mia mangi un pezzo di buffer fai le pittone io ho tacco i ponti, ma scuola il ponte laggiù non c'è? braccio? e io ora sono sparato faccio io, faccio io ormai ho già fatto io eh vabbè ti ho aiuto lo sciotti? minchia ci ho messo due secondi a farlo fuori col grido ah col grido eh hanno fatto anche io il grido e ce l'ho fra ti ho aiutato minchia l'abbiamo scopato ora... sotto non ha senso, non ha senso rega le piramidi non ha senso metterle no ma all'inizio io l'ho messa l'ho messa faccio io in stile va bene riesci? si si orco dio il cazzo son volato posto l'ho messo l'intera a due stiamo eh raggio? raggio dai matti c'è metto un po' di pedane ma io sto già spammando un po' in giro a tre stiamo giusto? oh dai che lo killo no peccato se avessi killato il taker eh troppo troppo lusso poi matti c'è guarda che sta facendo il volo dell'angelo quella dov'è sotto? chi lo fa? è morta da solo no vabbè chi lo fa? eh ormai è passato appena spona bisogna subire sei secondi ma c'è io te lo fai? strombata se capita che non lo faccio minchia regala entere e tutte stanno facendo ho messo quattro ogni lato ne manca uno raga così sale quindi fada attenzione eh lo faccio io? davanti davanti vai matti non puoi non puoi mancarlo dai bravo raggio cazzo no ragazzi ma ero bravo ti manca arrestare? sennò vai tranquilla scusa la botta potevate andare anche in tre l'ho fatta il giusto bravo bravo chi chi rida? boh tira una vabbè no vabbè tanto ce la facciamo se ne è in quattro non è in quattro mamma mia si perdevamo raga no perché vado sempre giù cristo la madonna ma lol mezzo danno mezzo oh bello smasher da sopra mi stanno mi stanno mi stanno bello smasher da sopra mi stanno mi stanno mi stanno bene bene dov'è? braccio braccio raga sapete che la mia build non va bene carburo inutile mi stanno mi stanno se ti metti il corpo però io te l'ho detto raggio da me via matti via 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 dove spona vediamo faccio io eh l'ho fatto anche io purtroppo vabbè più sicurezza in due no? è una garantia eh non è la sicurezza però il problema è che ora ce l'abbiamo fra 50 secondi beh io ce l'ho eh io anche ce l'ho e lo faccio io e ci provo a vedere se ce l'ho faccio io schiena fai tu? eh sì se riesco che ne so che ne so eh no ogni volta io muoio ma arrivano tutti mostri addosso mamma mia minchia due taker ma arrivano tutti mostri addosso due taker adesso io adesso io adesso io eh black ce l'avevi davanti tu eh non giuro ah fai tutto c'è due di pensa a te vabbè minchia sayonara due taker sono arrivate mamma mia stuagliato eh no io non posso ma sto barone corazza non si può mettere anche una velocità di movimento? no 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 cioè potrei però devo togliere una corazza black riesce a restarmi? va beh è troppo tardi lo dovresti fare appena spona allora regalo una botta qua eh io l'ho tirata su sayonara faccio io faccio io faccio io il coso il cristallo appena spona grande andata col ponte faccio io ragazze ce la fai? quanti stiamo a due? non lo so il prossimo di lo fa? ti piace la risposta? boh io non posso cioè io già ce l'ho utilizzato provo io faccio io faccio io dai sto lontano non ci arrivo faccio io faccio io riesci? l'ultimo mi sa questo qui ah per un pelo raga questo è l'ultimo raga questo è l'ultimo curativa mi serviva ogni volta che faccio il testo domancino vuoi rippa raga questo è l'ultimo poi mi sa che si sale credo reset vediamo un po' dove spona siete pronti? non tirate grida dietro dietro sayonara riesce? eh no c'è 14 secondi non era l'ultimo 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 eh niente il prossimo faccio io ce l'ho tra 30 secondi quindi non posso si però sto cazzo di me faccio io faccio io vai grande adesso devo salire da me mi hai bloccato vai sono già arrivato arrivo senza grido eh critico critico a me è uno solo uno faccio il grido butto il grido eh guardate la vita mamma mia ragazzo di 25 secondi cioè ci rendiamo conto ragazzi ci rendiamo conto bombardamento subito io l'ho già fatto 15 secondi e sparo poi lanciate le granate che cazzo ne so ragazzi oh ha preso forse ma prende la mia granata ma io ci sparo ci sparo io ci sparo io vai da un'altra un'altra botta con la pistola e muore quello si ma io lo avete affinato e non le faccio un cazzo come dai li ho sparato è perchè c'ha noi davvero tra lui non ha nessuno che gli incrementi danni vabbè la tua build non è portata sui danni tra le mani ragazzi cinque secondi io 30 secondi no son morto son caduto apposta vinta vaffanculo ha fatto pure a settimanale mi avete carriata quanti guagli carriata gg 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 ah posso fare pulire la roma ah no non l'ho fatta la settimana lì rip io l'ho fatta nei dungeon pure in synchro matti che palle guarda matti pure in synchro che sfida di video ora eh boh sayonara tu ci sei ancora no raga lui non mi vado a dormire va bene prossimamente per chi guarderà questo video shuriken comunque coordinatissimo si abbiamo giocato proprio bene solo qualche sbaglio vincia raga ma avete visto la vita finale come ce lo siamo trombato mamma mia ragazzo cioè tra meglio tra non dico che è meglio con un po' di sintomo